Buonasera, ben trovati. Allora sono le 19.59 esatte, dunque tra 60 secondi, poco meno di un minuto, sapremo chi è il nuovo, o sarà confermato, lo stesso presidente francese. Come vedete le televisioni sono tutte collegate, le televisioni nazionali francese pubbliche e private sono collegate sui vari quartier generali che sono in piazza con i sostenitori dei due sfidanti, Emmanuel Macron e Marine Le Pen, si farà il conto alla rovescia, come vedete è già partito, possiamo forse andare direttamente qua su France 24, è già partito, mancano 36 secondi per la scelta dei francesi. Vi ricordo che quello che staremo per sentire e per vedere è una estimazione che è basata non sugli exit poll ma su voti reali perché nelle piccole città francesi i seggi chiudono alle 19 mentre alle 20 chiudono nelle grandi città, quindi è una proiezione quella che staremo per vedere tra 14 secondi esatti e che deciderà chi è il nuovo presidente francese, ecco mancano 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e vediamo insieme in diretta. Macron confermato come avete sentito all'interno dello speciale da tutti i sistemi di sondaggio precedenti al 57, 60% però lo dà BMF mentre al 58 lo dà la France 4 e al 42% e 40 la Le Pen mentre France 24 leggermente in ribasso. Dunque questo è il dato confermato, Emmanuel Macron è il nuovo presidente francese con un'astensione però che è rimasta altissima fino all'ultimo momento. L'ultimo dato riguarda il 25, ci parla del 28,2%, al primo turno era del 26%. Vedete la piazza alla base della Tour Eiffel nel campo di Marte che è la sede dove si sono riuniti i sostenitori di Emmanuel Macron che stanno festeggiando. Forse possiamo sentire anche l'audio che ci arriva, eccoci, dalle tv francesi, campo di Marte dove si sono appunto raccolti, vi dicevo, i sostenitori mentre la stessa Marine Le Pen si è spostata a Parigi dal suo seggio e stava aspettando dopo un passaggio al quartier generale al sedicesimo arrondissement della capitale, al Bois de Boulogne, dove attesa anche lei attendeva i risultati che sono però, come avete visto, inequivocabili. Ne parleremo dunque tra pochissimo all'interno del telegiornale con tutti i dettagli precisi di questa nuova riconferma di Emmanuel Macron, presidente della Francia e poi naturalmente ci occuperemo di tutte le altre notizie. Oggi è stata una giornata estremamente importante anche per la guerra in Ucraina, non soltanto perché su campo la guerra, nonostante il giorno della Pasqua Ortodossa, non si è fermata, ci sono stati ulteriori bombardamenti ed è fallito il corridoio umanitario per far uscire le migliaia di civili che sono ancora bloccati all'interno della città di Mariupol, ma perché ci sono dei movimenti diplomatici molto importanti. Primo fra tutti l'intervento nuovo, ennesimo, attraverso una telefonata del presidente turco Erdogan che si è sentito con Zieleski mentre si attende ancora l'arrivo del segretario di Stato americano Blinken a Chieva, ma ci sono molte altre notizie da raccontarvi, vi aspetto tra 30 secondi per i titoli. Ai ballottaggi delle presidenziali francesi, Emmanuel Macron si è riconfermato per il secondo mandato all'Eliseo. Nelle prime stime di risultato il presidente uscente avrebbe conquistato oltre il 58% dei consensi. La rivale Marine Le Pen si è fermata invece intorno al 42, sul risultato pesa comunque la forte crescita del partito degli astensionisti. Sono trascorsi due mesi, proprio oggi dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina. Nel paese si celebra la Pasqua Ortodossa con le drammatiche notizie che arrivano dal fronte della guerra. Durissimi combattimenti a Kharkiv, così come a Mariupol, dove le truppe russe vanno avanti nell'assedio dell'accelaglieria Azovstal, dove sono asserragliati ancora un migliaio di militari ucraini. Proprio da Mariupol fallisce, peraltro, l'ennesimo tentativo di un corridoio umanitario, questa volta per i civili. Attesi in queste ore a Kiev il segretario di Stato americano Blinken e il capo del Pentagono, Austin, sono i primi esponenti di alto livello dell'amministrazione statunitense ricevuti nella capitale ucraina. Il presidente Zelensky si attende un sostegno forte, concreto, soprattutto per la fornitura di armi. Domani, tra l'altro, si apre una settimana decisiva per gli sforzi diplomatici. Secondo il ministro della difesa russo, vi sarebbero anche 11 foreign fighters italiani fra le vittime del conflitto in Ucraina. La notizia è stata rilanciata oggi dal Corriere della Sera ed è al centro delle verifiche della nostra intelligence. Non ci risulta, ma faremo dei controlli, hanno fatto sapere fonti dei servizi. E' bufera nella maggioranza per un tweet sul 25 aprile del senatore 5 Stelle Vito Petrocelli, presidente, peraltro, della Commissione Esteri del Senato, che ha usato la Z, simbolo dell'offensiva russa. Immediata reazione di Conte che lo ha espulso dal movimento. Dure reazioni anche dagli altri partiti. Intanto si è concluso il congresso di articolo 1 e il centro-sinistra prova a ricompattarsi, ma restano le distanze su armi e pacifismo. Allora, ben trovati. Buona domenica. Lo abbiamo visto in diretta. Stavo controllando le percentuali degli exit poll, che poi non sono exit poll. Come vi dicevo, le estimazioni si basano su voti reali. Sono proiezioni dei voti reali. I primi che sono arrivati dalla chiusura dei seggi alle 19 delle piccole cittadine francesi. Ci sono seggi, naturalmente, che vengono scelti con una campionatura precisa statistica e che hanno confermato che Emmanuel Macron sarà il prossimo, il 26esimo presidente della Francia. Come vedete, ci sono arrivate già da subito le immagini dei sostenitori di Macron da Piazza di Marte, sotto ai piedi della Torre Eiffel a Parigi, dove sono cominciati i festeggiamenti. E siamo in attesa, a breve, credo, di avere i primi commenti, i primi discorsi, sia del vincitore Emmanuel Macron che della sfidante Marine Le Pen. Ma intanto vediamo il servizio e poi torniamo in diretta. È Emmanuel Macron il 26esimo presidente della Repubblica francese. Come previsto, senza colpi di scena, anche se il risultato di oggi è molto lontano da quel 66% dei consensi ottenuto contro la stessa sfidante nel 2017. Il trionfo non si è ripetuto, ma Macron, dopo Mitterrand e Chirac, resta comunque il solo ad aver ottenuto un secondo mandato all'Eliseo. La temuta rottura del cosiddetto fronte repubblicano, dunque, non c'è stata. Ancora una volta una consistente parte dei francesi, che al primo turno aveva scelto altri candidati o non era andata a votare, pur di non vedere le penne all'Eliseo nel ballottaggio, ha votato Macron. Un presidente poco amato, percepito come distante dai problemi della gente, frutto di una élite, ma di cui, evidentemente, stando così le cose, non si può fare a meno. E c'è chi scommette che adesso, per prima cosa, il neo rieletto presidente andrà a Kiev per riaffermare il suo ruolo di mediatore in un'Europa traino franco-tedesco. E per sottolineare, non in ultimo, la mancata conquista dell'Eliseo da parte di una candidata anti-europeista, nazionalista e molto vicina a Mosca. Quando lei parla con Putin, parla con il suo banchiere, avrebbe a dire Macron durante il faccia a faccia alle penne, rinfacciandole il non ancora restituito prestito di oltre 9 milioni di euro, contratto per la precedente campagna elettorale con una banca molto vicina al Cremlino. La guerra in Ucraina sembra dunque avere giocato un ruolo, quantomeno tra gli elettori che in un momento così difficile hanno preferito non rischiare un cambio di passo così radicale. Siamo con Macron fino alle 20 contro di lui, dalle 20.01 è lo slogan più in voga tra chi ora lo aspetta al barco e dopo averlo votato si prepara a controbilanciarlo alle prossime legislative di giugno. Ma adesso è il momento di festeggiare dall'Eliseo, dove il Presidente ha atteso il risultato insieme a familiari e collaboratori e poi au Champ de Mars, dove tutto è pronto. Ai piedi della Tour Eiffel, ma ancora prima luogo simbolo della rivoluzione e dei grandi valori repubblicani. E come abbiamo visto quel campo di Marte nella diretta si è riempito nel frattempo dopo il montaggio del servizio di Adriana Bellini di sostenitori di Emmanuel Macron che vedete sono in piazza e sono esplosi in manifestazioni di gioia. Vi devo dire che in merito alle manifestazioni che sono in corso a Parigi c'è però un'ombra leggermente oscura, diciamo così inquietante, perché l'ambasciata americana in Francia ha allertato i propri cittadini a non partecipare alle manifestazioni in piazza perché potrebbe esserci il rischio di seri disordini, addirittura di attentati o di attacchi durante queste manifestazioni. Speriamo che sia naturalmente un eccesso di prudenza, un eccesso di zelo. Per adesso naturalmente tutto sta procedendo. Avete sentito che nel servizio si faceva riferimento a un possibile prossimo intervento di Macron nel ruolo di mediatore sul quale lui ha puntato molto, soprattutto nella prima parte della campagna elettorale. Dopo il ballottaggio la sua campagna è diventata molto più aggressiva. Ma il ruolo di mediatore che è assolutamente necessario in queste ore per cercare di trovare una svolta per la guerra in Ucraina. E proprio in questa giornata che coincide con la giornata della Pausco Ortodossa, oggi si è fatto avanti nuovamente, per la verità, anche il presidente turco per lo stesso ruolo, che ha telefonato a Zielewski e si sono accordati per utilizzare meglio la Turchia come mediatore. In una settimana, la prossima, che comincerà domani, molto importante su questo. E soprattutto per cercare di sbloccare una situazione, in particolare a Mariupol, che è ancora molto difficile e bloccata. Una Pasqua di guerra, quella che sta finendo in Ucraina, segnata dalla notizia che una ventina di navi della flotta russa da ore stanno incrociando lungo il Mar Nero, insieme ad alcuni sottomarini. Una mossa minacciosa che fa seguito forse all'affondamento per mano ucraina avvenuto la scorsa settimana dell'ammiraglia della flotta navale di Mosca. Tornando sulla terraferma, anche oggi Mariupol ha vissuto l'intera giornata sotto bombardamento e con battaglie all'interno delle acciaierie. Azov, Stal, dove restano asseragliati militari e civili ucraini. In città i residenti sono poco o meno di 100.000. Anche oggi in attese tutte le richieste di apertura di uno o più corridoi umanitari avanzate ai russi, prima dal negoziatore ucraino Podoliak e poi dalle Nazioni Unite. Domani ci si riproverà. Di certo un'eventuale evacuazione non riguarderà il migliaio e oltre di persone, tra militari, uomini e donne e bambini, sempre sotto assedio nell'acciaieria per mano delle milizie cecene al soldo di Putin. Da dentro la roccaforte della resistenza ucraina è arrivato in mattinata all'appello di Sviatoslav Palamar, vicecomandante della brigata Azov, inquadrata tra le file dell'esercito di Kiev, sempre in funzione di una tregua che permetta di portare fuori civili e militari feriti. Secondo Palamar, nei sotterranei vi sarebbero anche dei cadaveri. Centinaia di chilometri più a nord c'è Kharkiv, città snodo per l'avanzata russa verso il Donbass, dove si è combattuto anche oggi con le forze di Mosca che, secondo l'intelligence militare britannica, avrebbero subito nelle ultime 24 ore ingenti perdite di uomini e mezzi. Anche oggi a Kharkiv ci sono stati i raid russi, l'ultimo poche ore fa, contro un villaggio dove sono segnalati solo tre feriti. Un'area, questa dove negli ultimi giorni le truppe di Kiev hanno ripreso il controllo di almeno otto insediamenti nell'oblast di Kharkiv, dice il governatore Snyubov. Non so esattamente in questi due mesi quante siano le persone morte in città e nei dintorni. Sicuramente più di 700, tra cui 40 bambini, ma so che molte altre persone sono seppellite sotto le macerie e recuperarne i corpi è ancora impossibile, a causa dei continui bombardamenti mirati a terrorizzare la popolazione. Ma da qui non ce ne andremo, aggiunge il governatore. Non ce n'è ragione, i nostri soldati hanno il completo controllo del territorio. Arrivano notizie anche da Kherson, più a sud. Allora, rientriamo in diretta perché sta parlando Marine Le Pen nella sconfitta di queste elezioni presidenziali. Sentiamola subito. Rispetto il risultato delle urne. Abbiamo assistito a una campagna elettorale sleale e violenta da parte di Macron. I francesi sono stati sottoposti alla stigmatizzazione delle mie idee. E questo è avvenuto fino all'ultimo giorno. Con il 43% dei voti non possiamo dire che Emmanuel Macron abbia fatto registrare una vittoria sonante. Milioni di francesi hanno votato per me. Mi rivolgo ai miei elettori. Sono molto grato a loro. Vorrei esprimere anche la mia gratitudine a chi ha votato per me solo al secondo turno. Vorrei ringraziare in particolare i nostri compatrioti delle aree rurali e dei territori d'oltremare che mi hanno collocato al primo posto con un vantaggio notevole. sono veramente commossa da questo risultato. Questa Francia è stata dimenticata e noi invece non l'abbiamo mai dimenticata. Noi siamo più determinati che mai. Non vogliamo difendere i francesi. Non abbiamo tempo purtroppo di sentire tutto il discorso di Marine Le Pen ma la sostanza è questa. Due punti cruciali. Il primo quello in cui ha ricordato la campagna che lei ha definito violenta naturalmente da sconfitta vevictis come diceva Brenno quindi guai ai vinti e naturalmente ha la credine di chi ha perso e questo ha sottolineato la durezza della campagna di Macron sicuramente quella frase quando parli con la Russia parli con la tua banca ha pesato molto pronunciata da Macron durante il dibattito televisivo. E poi l'altra notazione ringrazio coloro che mi hanno votato anche solo al secondo turno a dimostrazione che il paese è di fatto spaccato perché siamo lontani come diciamo nel servizio da quel 66% di Macron ma anche questa volta con un 42-43% ottenuto dalla Le Pen mai così in alto per la sua terza volta la sfida presidenziale e con una stensione così alta sicuramente racconta un paese diviso e che si prepara peraltro a votare alle legislative. In attesa delle parole di Macron noi andiamo avanti con le notizie perché l'altra questione sono i movimenti diplomatici per cercare di portare a una tregua in Ucraina. Proprio poco fa la presidenza di Kiev ha proposto ai russi di tenere una sessione di negoziati accanto all'acciaieria di Mariupol e i movimenti diplomatici infatti sono molto forti stati in questa giornata. Un incontro a sorpresa annunciato ieri cosa insolita per un segretario di Stato americano dallo stesso presidente ucraino Zelensky mai confermato dalla Casa Bianca per tutto il giorno è ancora atteso. Il segretario di Stato Blinken dovrebbe arrivare a Kiev in queste ore, sarà il primo leader dell'amministrazione americana a mettere piede sul suolo ucraino. Una visita simbolica insieme al capo del Pentagono Lloyd Austin nel giorno della Pasqua Ortodossa e a due mesi dall'inizio dell'invasione russa. Siamo ispirati dalla resilienza dei cristiani ortodossi in Ucraina di fronte alla brutale guerra di aggressione del presidente Putin. Stiamo continuando a sostenerli e oggi auguriamo a loro e a tutti coloro che celebrano la Pasqua speranza e un rapido ritorno alla pace. Le parole di oggi via Twitter di Blinken. Arriverà dopo altri leader europei con un pacchetto da 800 milioni di dollari appena varato per nuovi aiuti militari e altri fondi in arrivo dal congresso per continuare a fornire armamenti. Zelensky lo ha detto chiaramente non potete venire a mani vuote ci aspettiamo cose specifiche e armi specifiche. Ma si parlerà delle prossime mosse anche in vista del vertice dei paesi Nato e non voluto da Biden che si terrà martedì nella base militare di Reimstein in Germania un vero consiglio di guerra dove si esamineranno anche le esigenze difensive dell'Ucraina a lungo termine. Ma quella che si apre domani è un'altra settimana in cui la diplomazia cerca di trovare spiragli di mediazione. Domani il segretario generale dell'ONU Guterres volerà ad Ankara in Turchia paese che ricopre un ruolo centrale nei negoziati. Anche oggi Erdogan ha ribadito a Zelensky la volontà di sostenere un processo negoziale con un ruolo di mediazione. Poi martedì per Guterres sarà la volta di Mosca dove incontrerà Putin e giovedì ultima tappa a Kiev. L'ONU cerca quindi di riprendere un ruolo centrale dopo le divisioni al Consiglio di Sicurezza che aveva visto alcuni paesi estenersi dalla condanna alla Russia. Guterres aveva chiesto con una lettera di incontrare Putin e Zelensky ma la sua prima missione parte in salita visto che il Presidente ucraino ha già espresso la sua irritazione per essere l'ultima tappa del viaggio. Non c'è giustizia né logica in quest'ordine e non ci sono cadaveri nelle strade di Mosca. Credo che sia più importante vedere prima cosa accada in Ucraina per avere tutti gli argomenti per andare a Mosca ha detto non si tratta di turismo politico ma di sostegno politico. Intanto ancora si attende l'arrivo del segretario di Stato americano Blinken a Kiev annunciato ieri proprio dallo stesso Zelensky però nel frattempo il Presidente americano Biden ha messo un tweet sulla sua pagina in cui si dice due mesi dopo eccolo lo vediamo dalla regia grazie a che Putin ha lanciato il suo attacco non provocato e non giustificato contro l'Ucraina Kiev ancora resiste il Presidente Zelensky sul governo demoricamente eletto resta al potere lo ha tweetato appunto Joe Biden che ha sottolineato il sostenere gli ucraini nella loro battaglia per difendere la loro patria ma questa guerra in Ucraina riguarda anche i combattenti italiani perché oggi sul Corriere della Sera è uscita una notizia che sarebbe stata comunicata proprio dai russi al governo italiano e che racconterebbe di 11 combattenti così di foreign fighters italiani sulla territorio di Ucraina la nota diplomatica sarebbe stata spedita dal Ministero della Difesa Russo a Palazzo Chigi poche righe recapitate al nostro governo sfruttando i canali diplomatici 11 foreign fighters italiani sarebbero morti in Ucraina mentre partecipavano per azioni militari contro la Federazione Russa questo il contenuto principale del messaggio pubblicato oggi dal Corriere della Sera nulla su dove e quando siano morti ovviamente nessun nome o dettaglio ma il messaggio non si fremerebbe qui perché la missiva conterrebbe anche altre informazioni i combattenti morti avrebbero fatto parte di un nucleo di 60 foreign fighters di nazionalità italiana presenti in Ucraina tutti schierati contro la Russia 10 sarebbero già tornati in Italia gli altri sarebbero ancora nel paese in guerra per loro avrebbe ricordato Mosca nella nota non si applicano le norme del diritto umanitario internazionale insomma un avvertimento in piena regola in un periodo di rapporti diplomatici quantomeno tesi anche tra Italia e Russia un messaggio simile sarebbe stato infatti recapitato anche ad altri stati dell'Unione Europea con lo stesso secco contenuto tuttavia la morte in Ucraina dei mercenari italiani al momento non viene confermata da nessuno né dalla Farnesina e nemmeno dalle fonti dell'intelligenza queste ultime riferiscono che sono in corso verifiche e promettono che risposte arriveranno nei prossimi giorni la verità è che appare difficile sapere se e quanti foreign fighters italiani stiano lottando con l'Ucraina in queste ore quel che è certo è che invece ci siano combattenti italiani a fianco dei filorussi nel Donbass uno di loro era Ediongaro 46 anni veneziano ucciso da una bomba a mano lo scorso 30 marzo mentre lottava con i separatisti della brigata Prizerach ma non è l'unico la procura di Genova indaga dal 2014 sugli italiani che combattono sin dalla prima guerra del Donbass a fianco dei filorussi come Andrea Palmeri 42 anni ex ultra della Lucchese i magistrati lo hanno già condannato a 5 anni proprio nell'ambito del processo su reclutatori e mercenari nel Donbass e per l'aggressione a un militante di sinistra è proprio collegata la guerra in Ucraina è scoppiato un nuovo caso davvero raccapricciante che ha come protagonista il rappresentante del Movimento 5 Stelle Vito Pretrocelli Vito Pretrocelli è fuori dal Movimento 5 Stelle stiamo completando la procedura di espulsione il suo ultimo tweet è semplicemente vergognoso il 25 aprile una ricorrenza seria certe provocazioni sono inqualificabili Giuseppe Conte certifica via web l'espulsione del Presidente della Commissione Affari Esteri del Senato per le sue posizioni filorusse Reo di aver pubblicato un tweet in cui la Z della parola liberazione è maiuscola chiaro riferimento alle truppe russe Petrocelli era già avviato all'espulsione dopo aver votato no per l'invio di armi all'Ucraina mentre le altre forze politiche chiedono la sua rimozione dalla guida della Commissione Esteri liberazione e conflitto sono del resto i temi intorno ai quali ruota il dibattito a sinistra come dimostra la giornata conclusiva del congresso di articolo 1 dove l'ospite d'onore è stato proprio Giuseppe Conte con il quale la platea mostra grande feeling nonostante le sue ultime imposizioni abbiano imbarazzato i dem con i quali si lavora al cantiere progressista in particolare l'eccessiva cautela sulle elezioni francesi anche se oggi Conte precisa assurdo pensare che i 5 stelle abbiano simpatie lepiniste ma anche i troppi distingue sulla guerra in Ucraina e sull'invio di armi che oggi rilancia entusiasmando la platea l'Italia e gli altri paesi dell'Unione Europea non possono rassegnarsi e assuefarsi a devastazioni e carneficine nel cuore dell'Europa protratte per non sappiamo quanto tempo né possono pensare di evitare questo scenario impegnandosi in una forsennata corsa al riarmo Posizioni che si intrecciano nel giorno della marcia per la pace per un giassisi ma soprattutto alla vigilia del 25 aprile data da sempre identitaria sinistra che deve unire ripetono in coro i leader che pure oggi vedono la situazione con sfumature diverse lei sta rilanciando le parole di Mattarella resistenza è anche armata e non è resa la prepotenza parole interpretate come un rimprovero all'ampia e la sua linea considerate qui distante sul conflitto posizione corretta già ieri dal presidente Pagliarulo che ha chiarito che c'è un aggressore e un aggredito ma che oggi del palco avvisa è già chiaro il tentativo di delegittimazione dell'ampi ma una cosa vorrei che fosse che sia chiara cristallina in nessun caso a nessuna condizione e sotto nessuna pressione l'ampi diventerà subalterna cioè perderà c'è ancora tempo per parlarvi dell'altro caso di questi giorni l'epatite acuta pediatrica che è criptogenica come sapete cioè non se ne conosce l'origine l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha aperto un fascicolo per cercare appunto di indagarne le cause perché ha colpito 11 paesi nel mondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha aperto il dossier sui casi di epatite acuta nei bambini 169 quelli accertati questo è il rapporto del 23 aprile con dati raccolti al 21 del mese cautela nessun allarmismo ma vigilanza accurata dicono gli esperti epatologi perché non c'è ancora una spiegazione all'incremento dei casi l'OMS pubblica una mappa nella quale mostra la distribuzione delle segnalazioni in blu scuro il paese con il maggior numero di casi 114 nel Regno Unito seguono con azzurro più tenue la Spagna 13 casi subito dietro Israele con una soglia sotto i 10 pazienti e che sarebbe nella norma annuale ci sono stati uniti Danimarca, Irlanda Olanda, Italia Norvegia, Francia Romania e Belgio il 10% 17 bambini sono stati sottoposti a trapianto è escluso il legame con il covid così come con i vaccini i pazienti sono quasi tutti non vaccinati si studia invece l'ipotesi che il lockdown possa aver bloccato la circolazione di adenovirus abbassando le difese immunitarie nei bambini in Italia al momento al ministero sono arrivate 11 segnalazioni solo in 4 casi è stata accertata l'epatite acuta un bambino è ricoverato al bambin Gesù di Roma altri 2 invece sono al Papa Giovanni di Bergamo Angelo Di Giorgio coordinatore dell'area fegato della società italiana di epatologia su uno di loro è effettuato il trapianto di fegato ad oggi non abbiamo certezza sulla causa di queste forme di epatiti il 77% dei bambini nel Regno Unito che hanno presentato queste forme di epatiti avevano un test positivo per l'adenovirus tuttavia attenzione riscontrare un virus non significa che sia stato lui direttamente responsabile di quel quadro di epatite è quel motivo per il quale i colleghi d'oltremanica eseguono ulteriori indagini ad oggi non ci sono nuove segnalazioni un nuovo aggiornamento verrà fatto martedì allora in attesa di sapere di sentire il presidente francese Macron che potrebbe intervenire a campo di Marte ai piedi da Torre Eiffel per siglare con le parole la vittoria a queste elezioni presidenziali nel frattempo ha parlato Jean-Luc Mélenchon che era nel primo turno ha raccolto il leader della France insumise ha raccolto oltre il 20% e ha fortemente condizionato queste elezioni vi do brevemente l'ultima notizia di sport c'è stato il quarto gran premio del campionato di Formula 1 che è stato disputato come sapete a Imola ed è stata una grandissima e me delusione per le Ferrari finora padrone della stagione per tutti i suoi tifosi la gara infatti lo vediamo è stata dominata dalla Red Bull del campione del mondo Fer Stappen che ha vinto e già nel primo giro Senza è stato coinvolto in incidente mentre Leclerc ha chiuso soltanto sesto della Ferrari dopo di noi ospiti di Nonda Marianna Aprile Marc Lazar Federico Rampini Andrea Milluzzi e poi a seguire ospiti di Nolera Arena Stefania Andreoni Bretta Mazza Francesca Barra Alessandro Orsini Agnese Pini De Magistris Riccardo Ricciardi e Luca Telese noi ci fermiamo qualche istante poi torniamo per gli aggiornamenti eccoci ancora in diretta siamo in attesa che parli il presidente francese rieletto ventisesimo presidente della Francia Emmanuel Macron con uno scarto piuttosto ampio rispetto alla sfidante Marine Le Pen che ha appena concluso il suo discorso rilanciando però la sfida Emmanuel Macron perché la Le Pen è stata molto chiara il paese ha voglia di cambiamento la Le Pen ha perso con uno scarto di quasi 10 punti si è fermata intorno al 42% ma ha detto il paese ha voglia di cambiamento e soprattutto la prossima sfida è quella delle legislative dunque la sfida è tutta aperta ha parlato anche Jean-Luc Mélenchon che è leader della France che è quel rassemblement di partiti di idee più a sinistra rispetto al partito di Macron che nel primo turno si è fatto notare per un grande consenso intorno al 20% imprevisto peraltro da quasi tutti i sondaggi e Mélenchon ha sottolineato siamo contenti che la Le Pen non abbia vinto va sottolineato però che quei voti non erano stati promessi a Macron durante la campagna elettorale per il secondo turno delle presidenziali vedete dalle immagini che sono nel campo di Marte ai piedi della Torre Eiffel a Parigi i sostenitori di Macron il quale non è ancora intervenuto non ha ancora parlato e non ha neanche mandato tweet per festeggiare la sua vittoria noi però ci dobbiamo fermare passiamo la linea a De Gregorio Parenzo e poi a seguire a Giletti vi ringrazio per l'attenzione buona serata e buona domenica grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti